Lunedì 9 maggio il presidente nazionale di Confagricoltura Mario Guidi ha partecipato all'assemblea dei delegati della sezione di Ferrara e subito dopo, insieme al presidente e al direttore di Confagricoltura Ferrara, Nicola Gerardi e Tiziano Artioli, ha incontrato la stampa per illustrare le strategie dell'organizzazione professionale per i prossimi mesi. Molti temi affrontati, dal rapporto con la base sociale alla crisi delle aziende agricole, dal futuro dell'agricoltura chiamata a sfamare sempre più persone ma anche a fornire nuove fonti di energia, alla necessità di una maggiore competitività per le imprese italiane, dalla troppa burocrazia agli OGM, dalla necessità di una maggiore internazionalizzazione senza perdere di vista la valorizzazione del locale ai nuovi interlocutori degli agricoltori, quali i Ministeri di Lavoro, Ambiente e Salute. L'intervista completa su questi temi al presidente Guidi andrà in onda nella prossima puntata di Agrest di mercoledì 18 maggio.